Sono contento e ringraziato per avermi invitato a moderare questa mattinata dedicata al volontariato. Un fenomeno importante è quello del volontariato in sanità perché permette di sopperire alle eventuali carenze del sistema sanitario nazionale ma soprattutto permette di integrare con una serie di servizi e attività l'attività verso i malati ma soprattutto verso i familiari. Un evento questo di solito di volontariato non si parla mai, si parla sempre poco perché il volontario, l'associazione di volontariato spesso sono in primo piano, operano, preferiscono non girarsi dall'altra parte e darsi da fare. Quindi lavorano spesso nell'ombra. La mattinata, come avete visto dal programma, è organizzata per presentare tutta una serie di attività che compongono il volontariato, ovviamente non possono essere tutte.